Buongiorno a tutti, qui Arduino Schrenato da Airforex.com e in questo video voglio fare un aggiornamento di quella che è la mia view sul cambio dei cambi sul mercato delle valute, ovvero sull'euro-dollaro. Cosa può essere interessante andare a osservare? Quali possono essere i livelli? Cosa andare a vedere nei prossimi giorni? Quindi questa rubrica ormai la faccio spesso, non è un evento diciamo di ogni sabato ma spesso il sabato uno dei video riguarda l'euro-dollaro. Vedo che c'è molto interesse su questa copia di valute soprattutto per chi fa forex diciamo. Quindi vi chiedo ovviamente di lasciare un mi piace al video se poi il video vi sarà piaciuto e se non siete iscritti al canale di iscrivervi. Mentre possiamo partire direi che l'euro-dollaro, questo è un grafico daily, in questo momento siamo alle ore 17 all'incirca di venerdì e quindi ormai la settimana insomma sembra abbastanza in via di conclusione. Abbiamo avuto una settimana questa di rialzo, di ritracciamento, di ritorno dell'euro-dollaro sopra i 17,50. Prendo il grafico a barre settimanali perché in questo modo riusciamo ad essere più precisi anche in quello che potrebbero essere le dinamiche che si vengono a formare su questa copia di valute. Allora, la cosa che intanto mi viene all'occhio è questa tenuta ulteriore di 1,17,50. Quindi eravamo qui, abbiamo avuto questa tenuta e poi abbiamo avuto settimana scorsa con il movimento al ribasso e il recupero questa settimana. Quindi possiamo dire che al momento quella che si è venuta a creare è esclusivamente una falsa rottura e quindi ancora il mantenimento su 17,50 che diventa la zona principale di tenuta di questo movimento, quindi di movimento short. Siamo in un range, in un box, chiamatela come volete, una scatola che prende dei minimi proprio più bassi che sono area 1,16,30 e dei massimi più alti che sono area 1,22,50 all'incirca. Poi 1,23 è stato toccato, va bene. Abbiamo avuto nel movimento l'area 1,17,50 con 1,17 di minimo e chiusura sopra e quindi 17,50 per poi ripartire e stessa cosa qui, un mercato che questo 1,17,50 diciamo lo sente, lo tiene. Questa situazione però avviene sì in un box ma in un movimento direzionale dell'euro-dollaro. Un movimento che chiaramente è una tendenza short nel momento in cui lo vediamo nel breve perché se io vado a prendere da massimo e minimo di queste ultime settimane, da quando c'è stato l'ultimo massimo addirittura al 24 di maggio con questa pin bar con il falso massimo qui, ha portato i prezzi al ribasso. Tra l'altro ricordo che tra i segnali più interessanti che io vado a tradare ci sono appunto le pin bar, eccola qua una, per esempio, eccone qui un'altra che ha portato giù i prezzi ed eccone con un'altra, tutte su livello chiave. Quindi non serve, tante volte si crea mille e più modi di entrata, strategie, complicazioni eccetera, alla fine quando si guarda un settimanale e si magari va a cercare una entry di conferma su un daily e sui livelli importanti di domanda e offerta, vedrete che non c'è più tanto da andare a fare. Comunque, dopo queste tre pin bar abbiamo avuto appunto, e soprattutto l'ultima, abbiamo avuto questo ribasso in volatilità, questa settimana, cioè le ultime settimane e soprattutto le ultime due, le ultime tre, posso dire, hanno creato questo tenuta. La settimana che si sta per concludere sull'euro dollaro è una settimana che va ad annullare, diciamo, i ribassi della settimana precedente e mi viene da dire che ci potrebbero essere quindi dei movimenti, dei lievi movimenti di rialzo ulteriore, eccolo qua, tac, con un ritorno che potrebbe essere anche nelle prossime settimane, un ritorno verso l'area 1.18.60, 1.19 e 1.19.50. Diciamo che questa potrebbe essere la zona più naturale dove ritrovare delle belle occasioni di vendita sull'euro dollaro, perché ci poteva anche stare il, eccolo qua, ci può stare ancora, ora tolgo via un po' di freccine, il fatto che questo livello di massimo, eccolo qui, possa fare da tappo, perché ci può stare ancora, ripeto, siamo circa fine settimana, ma la settimana è ancora conclusa, manca qualche ora e soprattutto lunedì, martedì vedremo, quindi il primo, in realtà, il primo vero punto dove il mercato potrebbe ancora sostenere le vendite qui, con un falso massimo, ovviamente ci deve essere una price action, io parlo sempre della view che ci potremmo avere su euro dollaro, ma sempre con poi la conferma della price action, io non entro a mercato se non ho un segnale di price action dei miei su daily, ok? Quindi non sotto, quindi se su daily già lunedì o martedì si dovesse creare una barra come questa, cioè una barra ad alta volatilità recuperata, una pin bar, un inside fake out, un doppio massimo lower, un segnale insomma che sfalsa questi massimi, quindi li falsa, fa un fallimento dei massimi e li recupera, ecco che in questo caso potrebbe già questa diventare una zona importante, cioè l'area 1,18, ok? Mentre se il mercato dovesse continuare la fase rialzista, la prossima situazione interessante che si potrebbe utilizzare per andare a vendere euro dollaro, nel caso in cui ci sia appunto un segnale short è questa. Io sto parlando in questo momento solo di vendite perché la tendenza che si è venuta a creare è una tendenza chiaramente short e che ha uno spazio di azione sinceramente molto ristretto, quindi in linea generale preferirei avere, magari lasciare anche che il mercato possa creare il movimento di allungo, magari non lo vado a prendere nell'ottica di brevissimo, ma qualora dovesse fare o qui o qui, queste sono le prime due aree, poi abbiamo anche questa, quindi in una di queste tre zone, ripetiamo, 1,19,50, 1,19,18,60, quindi la zona che passa per di qua è 1,18, qualora lì sul grafico daily dovesse creare delle price action short, chiaramente short, allora in quel caso si potrebbe pensare di pianificare un'operazione short. Questa è la prima cosa che mi viene da dire, quindi al momento la tendenza è short e tutte le situazioni che si vengono a creare sono a mio avviso più per lo short, quindi nel caso in cui per esempio si crei qualcosa o qui, o qui, o qui, possono diventare delle occasioni di vendita, assolutamente. Poi, nel momento in cui il mercato dovesse creare invece non delle price action di un certo tipo, quindi inizia a muoversi in un certo modo con degli swing low, che creano addirittura dei setup long, e quindi vediamo che è un mercato che nella sua tendenza short dai minimi, perché alla fine siamo arrivati quasi sui minimi, e comunque siamo arrivati sui minimi che hanno portato sul 17,50, ricordiamo è stata la gamba rialzista di qualche mese fa, quindi siamo già arrivati qui e il mercato euro-dollaro vuole andare a fare un ulteriore trend delle prossime settimane rialzista, e quindi cambiare un po' la fotografia dell'ultimo periodo è possibile, e a quel punto allora andremo a valutarlo nell'ottica ovviamente di trading, quando ci saranno le conferme di price action. Al momento mi viene da dire una chiusura di questo tipo, che quindi può portare a un rialzo, abbiamo visto, c'è una chiusura settimanale, così, che può portare ad un nuovo rialzo. Secondo me, al momento, per quello che ci sta dicendo il grafico in questo momento, il rialzo potrebbe essere, diciamo, di breve durata, cioè il mercato ha dei punti chiave di vendita possibili, che non possono non essere osservati, attenzionati, per magari un'operazione short. Qualora ci fossero, ovviamente, poi si andranno a rivalutare, e se si faranno, ci saranno gli obiettivi, che sono i livelli precedenti, quindi ritorneremo sempre sui 17,50, 17, e il 1,16,20, che diventa poi il livellone, quello sotto, settimanale, ok? Direi, quindi, che per oggi è tutto. Io, ovviamente, vi ho dato così una view, e poi bisogna, insomma, per, se volete, insomma, seguire meglio e approfondire un po' tutte queste cose. Sapete che noi abbiamo il mentorship Platinum mensile, semestrale annuale, abbiamo la scuola Platinum, quindi proprio all'interno di tutti i corsi, delle training room del mattino, insomma, abbiamo alcuni servizi didattici operativi che, diciamo, ci fanno sempre stare insieme, abbiamo addirittura adesso creato il canale Discord per chi è iscritto alla scuola Platinum, quindi, praticamente, una chat continua durante il giorno dove ci si può parlare, affrontare i vari temi, vedere i grafici. Quindi, al massimo, per chi vuole approfondire e vuole diventare, insomma, più esperto con il trading, con la price action, volentieri ci vediamo lì. Per il resto, io, a questo punto, vi saluto, vi richiedo di lasciare un mi piace qualora non l'abbiate fatto, se vi va, e noi ci vediamo, ovviamente, lunedì con la trading room e con i prossimi video del canale. Grazie, un saluto e un buon weekend. Ciao a tutti.